Siamo allo stand Leica Geosystem in compagnia di Simone Oppice che è responsabile vendite allora innanzitutto le chiedo qual è l'importanza di una fiera come sai e l'importanza di ritrovarsi in presenza e poter incontrare i propri clienti. Per Leica Geosystem è importante incontrare le persone perché i nostri prodotti in qualche modo vanno vissuti dal vivo quindi ci aspettiamo che le persone vengano al nostro stand per provarli e in qualche modo toccarle anche se in modo virtuale perché in questa situazione abbiamo dovuto adottare delle piccole accorgimenti igienici diciamo così quindi ci aspettiamo numerose visite. Abbiamo delle novità quest'anno, il GS18i che è questo prodotto che vede qua alle mie spalle, il primo GPS che è in grado di fare fotografie in movimento e darci moltissime informazioni e quell'altro che invece vede sullo sfondo si chiama BLK to go ed è uno strumento che ci permette di poter scansionare muovendoci e camminando quindi altissima tecnologia, molto interessante, vi invitiamo a venire per raccogliere informazioni. Grazie.